Musica Bentornato Gutier, bentornata Ora ti mostro una sezione molto veloce del pannello di controllo La data e l'ora Potrei esordire con una battuta What time is it? In inglese Ovviamente non è una lezione inglese Una battuta appunto per farti guardare in basso a destra Se non hai mai visto questa sezione Suppongo naturalmente di sì È la Sistray nella quale trovi l'orario e il calendario Se eventualmente dovessi notare a margine del discorso Che è impostata male Ovviamente devi sempre tenere a mente Che potrebbe essere un problema della batteria tampone Della scheda madre Questo soprattutto se continuamente dovrai aggiornarla Per cui ti rimando nel caso fosse così Alla lezione relativa Nella quale trovi scritto come sostituirla Ma proseguiamo nella descrizione A cosa serve l'orologio? Sembra abbastanza semplice Però non proprio per vedere che ora è In secondo luogo forse sì Ma la cosa principale è che Questo parametro viene associato Alla data ed ora dell'operazione di creazione o modifica Dei file presenti sul computer Per una cronologia e per etichettare alcuni eventi Questi dati possono naturalmente essere modificati in qualsiasi momento Anche tecnicamente inserendoli errati Come si imposta? Ma è sufficiente che ti rechi con il mouse Nella zona in basso a destra della Sistray E ci clicchi sopra con il pulsante sinistro Cosa comparirà? In pratica noterai una sezione simile a questa Nella quale potrai innanzitutto visionare giorni passati o futuri e anche mesi Grazie a questo calendario E variare anche gli orari tramite queste freccette In basso trovi la scritta Modifica impostazioni data ed ora Ci clicchi sopra e si aprirà questa nuova schermata Nella quale potrai entrare nella zona modifiche Troverai tre sezioni Modifica data ed ora Orologi aggiuntivi Ora internet In base al parametro che dovrai impostare Potrai selezionare una o l'altra sezione Partiamo dalla data ed ora In questa sezione trovi due pulsanti Modifica data ed ora E modifica fuso orario Il primo ti permetterà di accedere alla sezione di modifica Nel quale imposterai naturalmente il giorno e l'orario corretti Per regolare i parametri puoi agire su delle freccette laterali al mese O sulle frecce dell'orologio numerico Anche eventualmente digitando tramite tastiera l'ora Terminate le modifiche Naturalmente clicca su ok per farla acquisire O su annulla per rimuovere le tue impostazioni In basso trovi anche la scritta Cambio impostazioni del calendario Accederai a questa ulteriore sezione Nella quale potrai selezionare ora e data In particolar modo potrai scegliere il formato di alcuni parametri In termini di ora e data A seconda di come hai più piacere la visione Potrai personalizzare la versione in diverse strutture Come ad esempio giorno, mese ed anno Oppure anno, mese e giorno Per la data Ancora per l'ora potrai selezionare una o due cifre Con il simbolo AM o PM In termini di 12 ore o 24 ore I vari pulsanti reimposta Ti permetteranno di riportare i parametri Alle impostazioni iniziali Definite dal programmatore Qualora tu non dovessi ricordare come erano impostati in precedenza Il pulsante modifica fuso orario Apre una nuova finestra Nella quale puoi variare la fascia del fuso orario A cui appartiene la tua postazione E selezionando il segno di spunta Imposta automaticamente l'ora legare Verrà aggiornato l'orario all'inizio E al termine dell'ora legale In maniera del tutto automatica Al termine ricorda Per far acquisire tutte le impostazioni Dovrai cliccare sui vari pulsanti OK Una sezione particolarmente simpatica Potrebbe essere quella degli orologi aggiuntivi In questa sezione puoi dilettarti A rendere attivi altri due orologi In formato analogico Come puoi vedere in figura Con orario digitale e numerico Al cui poter associare orari diversi Relativi ad altrettante fasce di fuso orario Se hai piacere Selezionando uno o entrambi i segni di spunta Mostra orologio per il primo o per il secondo Ed impostando il fuso orario In base al menu a tendina che si evidenzia Potrai scegliere i vari fuso orari Presenti lungo la superficie terrestre Non per essere ripetitivo Ma dopo la scelta Ricordati di cliccare su OK Per le acquisizioni O annulla per rimuoverle Qualora tu non voglia più vedere Gli orologi aggiuntivi Ti sarà sufficiente Tornare nella schermata precedente E togliere i segni di spunta Cliccando su OK L'orologio principale E quelli aggiuntivi Li potrai visionare O cliccando sulla zona Della Sistray E li avrai mostrati In formato analogico Con gli orologi e il lancetto Oppure semplicemente Fermandoti con il mouse Nella zona della Sistray Ti comparirà Una piccola finestra Mostrata in figura Nella quale troverai I vari fusi orari Ultima sezione Ora di Internet Questa sezione ti consente Di impostare Il server a cui l'orologio Deve connettersi Per sincronizzare l'ora Cliccando su Cambia impostazioni Dopo aver selezionato La sezione E andando ad aprire Il menu a tendina Potrai impostare Un server diverso Rispetto a quello standard E necessita naturalmente Della connessione ad Internet In modo da garantire La precisione dell'ora Naturalmente A noi utenti domestici In realtà Poco può importare Che l'orologio Non sia perfettamente corretto E ancor di più Sincronizzato Ad un server Ma riflettiamo un attimo Sicuramente Per alcune tipologie Di fruitori Può essere fondamentale Termino La descrizione Di questa sezione Rimandandoti Alla consultazione Delle lezioni Dalla 41 Alla 48 Un po' a lunghe Naturalmente E i rispettivi Video tutorial In quanto ti ricordo All'interno Di questa sezione Accenno Alla descrizione Del BIOS Nel quale potrai Visionare i vari parametri Di impostazione Tra cui appunto Data ed ora Allora Cutler Vediamo Come gestire Data e orario Naturalmente Questa sezione La puoi trovare Dal pannello di controllo Nella sezione Relativa alla modifica Data ed ora Questo è il pulsante Di interesse Naturalmente Ma per semplicità Partiamo dalla Sistray In basso a destra Troviamo Data e ora In forma numerica Fermandoci sopra Si creerà Una finestra Nella quale Comparirà Il giorno della settimana Oltre alla data Cliccandoci sopra Si evidenzierà Immediatamente In formato analogico E numerico La data E l'ora E soprattutto Dal calendario Potresti Spostarti Per visionare Eventuali giorni e mesi Precedenti Oppure futuri Per individuare Un giorno Preciso Che ti interessa Per abbreviare La chiave di lettura Clicca in questa zona E potrai Così visionare Rapidamente Gli anni Gli anni Da controllare Oppure Tramite quest'altro Giochino In dettaglio Immediatamente L'anno Con un accesso Rapido E puoi selezionare Mese e giorno In maniera Immediata Oppure Oppure Cliccando due volte Anche le fasce Di decennio Come puoi vedere Abbastanza Rapido Nella soluzione Per modificare I parametri Di data ed ora Clicca su questo pulsante Si aprirà Una nuova schermata Nella quale Oltre a visionare Come già visto In formato Analogico E numerico I parametri Potrai anche Come in questo caso Selezionare Le notifiche Alle modifiche Dell'orologio Scusa Il gioco di parole Oppure potrai andare A modificare I parametri Di data ed ora Tramite questo pulsante Nella quale potrai Impostare rapidamente I giorni Precisi E tramite Queste frecce Oppure digitando Il numero Tramite la tassiera In maniera più rapida Annulliamo ovviamente Le modifiche Per non alterare Lo stato Dell'orario E del calendario Qualora tu volessi Farla acquisire Ti ricordo di premere Il pulsante Ok Se invece vuoi Cambiare le impostazioni Del calendario Potrai decidere Tramite questo menu Il formato Come data breve O data estesa Oppure Per quel che riguarda L'ora Tramite questi Due menu A tendina Scegliere Se selezionare L'una o l'altra Visione E in più Il simbolo AM OPM Il pulsante Reimposta Riporta tutto Alla configurazione Di fabbrica Annulliamo per il momento Queste opzioni Andiamo a vedere Come modificare Il fuso orario Qualora tu Appartenga Ad una fascia Diversa Da quella Evidenziata Sarà sufficiente Aprire il menu A tendina E scorrere La barra E selezionare Il nuovo Fuso orario Dopodiché Potrai decidere Se impostare In maniera Automatica L'ora legale Cosicché Il cambio Dell'ora legale Avverrà in maniera Automatica Senza che tu Interagisca Con le impostazioni Altra sezione È quella Relativa agli Orologi Aggiuntivi Potrai Scegliere Di visionare Uno o due Orologi Aggiuntivi Dando anche Il nome Che preferisci Dopo aver Selezionato Ad esempio La fascia Oraria Supponiamo Di selezionare In questo caso L'orologio Di Atene E in quest'altro L'orologio Di Bacu Così A caso Prendiamo E scriviamo I rispettivi Nomi da visualizzare E nel momento Clicchiamo Su Appica Oppure Ok Se vogliamo Chiudere Immediatamente La fascia Noteremo In visione L'attuale Fuso orario E quelli rispettivi Ad Atene E a Bacu Per deselezionare Ovviamente La visione Dell'uno O l'altro O entrambi Gli orologi Sarà sufficiente De selezionarli E far acquisire La nuova impostazione Come puoi vedere Ultimo pulsante È la modifica Della sincronizzazione Dell'orario Ad un determinato server Che attualmente È preimpostato Come il server Di Windows Cliccando Cliccando su Cambio Impostazioni Potrai Scegliere Un nuovo server E sincronizzare Cosicché L'orario Dell'orologio Al server Selezionato Dopodiché Clicca sempre Su OK Per far acquisire Le impostazioni Nella prossima lezione Saremo sempre più addentrati Nel pannello di controllo Ora un forte saluto Ciao a presto Da Galo E dalla prossima